Buongiorno, professore, come è possibile che l'ipnosi abbia una funzione analgesica e perché l'ipnosi non è per tutti? Allora, l'ipnosi ha una funzione analgesica per delle ragioni neurofisiologiche ben precise. Gli studi degli ultimi 15 anni hanno dimostrato la capacità del soggetto in ipnosi di poter modulare l'attività delle aree cerebrali di quella che viene chiamata in termine tecnico alla neuromatrice del dolore, cioè tutte le aree cerebrali connesse con la percezione ma anche la modulazione e la soppressione del dolore. Quindi sostanzialmente è un'applicazione della fisiologia della mente che appare molto strana solo per ragioni di tipo storico-culturale che sono orientate più al vedere la mente come un passivo epifenomeno dei circuiti cerebrali, mentre invece in realtà la mente di fatto può modificare funzionalmente e plasticamente anche il cervello. Quindi per quanto riguarda chi può fare l'analgesia, se mediamente almeno l'80% della popolazione anche di più può fare un'ipnosi moderata o elevata, utilissima per qualsiasi fine terapeutico, l'analgesia ipnotica, intendo l'analgesia qui per quanto riguarda interventi chirurgici e quindi per dolore acuto, non si hanno casistiche precise ma si può stimare che circa tra il 20 e il 40% della popolazione sia in grado con un minimo di training di arrivare ad un'analgesia che possa permettere di sostenere manovre invasive, quindi cose piuttosto dolorose. Non è per tutti, per il dolore cronico è un altro capitolo invece. Cosa è esattamente l'ipnosi e quanto nell'ipnosi c'è perdita di controllo? Allora, nell'ipnosi non c'è nessuna perdita di controllo, anzi è un modo per, paradossalmente, perché è la vecchia storia degli ipnotisti da spettacolo e del background storico dell'ipnosi che ha fatto pensare all'ipnosi come una sorta di diventare uno zombie in mano dell'ipnotista. In realtà l'ipnosi non la fa l'ipnotista, la fa il soggetto. L'ipnologo conosce il metodo e lo insegna al paziente, il quale poi può anche applicarselo da solo intenzionalmente quando vuole. Del resto, se torniamo all'analgesia, il fatto di imparare a fare un'analgesia, essere in grado anche di gestirla almeno in parte autonomamente, se questo non è un momento di controllo personale, non so come altro si possa chiamarlo, vuol dire arrivare a controllare con la mente cose che non siamo in grado di fare con la volontà ordinaria. E c'è un tredugnon con la meditazione orientale, con le tecniche yogiche, con il fakirismo indiano, con tutte le tecniche mente-corpo con cui si è lavorato dai tempi della preistoria per arrivare a modulare la regolazione del corpo. E ne abbiamo tracce anche nella nostra antica storia, per esempio nella medicina, dei sacerdoti di Apollo e di Esculapio, nei presocratici. Parmenide stesso era medico e guaritore, quindi è una tecnica antichissima, anche se ufficialmente chiamata così, ipnosi, nasce dall'inizio del fine Settecento. Ecco, professore, come si arriva a uno stato di ipnosi analgesica? Allora, l'ipnosi come essenza è nella concentrazione mentale, nell'assorbimento. L'assorbimento vuol dire tutto quello che io faccio, che assorbe le mie capacità attentive, per cui quello che non è nel mio focus attentivo si perde e non mi interessa, non lo percepisco più. Diciamo che se dovessimo paragonare la nostra coscienza ordinaria a una macchina fotografica, l'ipnosi è come lo zoom. Se io uso lo zoom, vedo una parte più ristretta del campo visivo, non vedo tutto il resto, ma posso fare operazioni che non riesco a fare se non riesco a focalizzare lì perché non riesco a vederlo abbastanza in dettaglio. Questa è l'essenza dell'ipnosi. Per cui l'ipnosi per farla ci vuole una mente sana e che funzioni bene, che abbia delle doti buone, non è una cosa che è connessa con la perdita del controllo. Il contrario è esatto. Che poi il paziente possa fare cose, parliamo anche degli ipnotisti da spettacolo, apparentemente assurde, eccetera, questo è perché uno decide che in quel momento, anche a livello incoscio, gli va bene fare. La motivazione e la fiducia nel fare fanno fare le cose che uno potrebbe bilantare essere materia di suggestione, ma sono due cose completamente diverse che appaiono in modo simile vista dal di fuori. Molto affascinante. In ipnosi nessuno può essere costretto a fare quello che lui non ritiene di voler fare. Questa è l'esperienza comune nella pratica clinica. Ecco, professore, ma quanto è possibile gestire con l'ipnosi il dolore? Allora, il dolore acuto, dicevo, non abbiamo casistiche precise, diciamo sicuramente un 20-25% della popolazione ha capacità tali da poter arrivare a controllare il dolore. In terapia del dolore cronico, che è molto diverso, perché il dolore cronico è un capitolo vastissimo che ha grossissime implicazioni anche psicologiche, esistenziali, psicosomatiche, adesso non possiamo analizzarlo adesso qui. Ho dei pazienti che a volte non rispondono a nessuna terapia antalgica, pur essendo solo moderatamente ipnotizzabili, in poche sedute cambia completamente il loro dolore, guarisce la cefalea o il mal di schiena, o tutto quello che è, modificando la regolazione mente-corpo e la capacità che il paziente ha come risorse per stare meglio. Ecco, professore, quanto dura una seduta ipnotica? Allora, può durare se per terapia, grosso modo, poi dipende cosa si fa, se uno fa psicoterapia, se fa invece terapia del dolore, se per altri disturbi, che tipo di induzione si usa, perché uno può usare un'induzione lentissima, in diretta, la Ericsson, magari ci mette 20 minuti, mezz'ora solo per indurla, io uso tecniche di induzione che durano 2-3 minuti, non sono così, non si perde assolutamente tempo per la fase di induzione, si usa tutto il tempo molto bene per la terapia. Normalmente io faccio sedute per terapia di una ventina di minuti, 20-25, non di più, se è per un intervento l'ipnosi dura tutto il tempo di intervento, anche 2-3 ore, non c'è problema. C'è una particolare tipologia di pazienti dalla sua esperienza? In che senso? Che vengono da lei per determinati dolori? No, allora, chi viene da me per dolori, arriva da me perché di solito ho già provato tutti i farmaci che tutti prescrivono e non ha raggiunto lo scopo, quindi io sono costretto a non usare i farmaci anche quando potenzialmente vorrei. e chi viene da me cerca di star meglio, spesso ha perso anche la fiducia in molte cose, eccetera, il problema essenziale è la corretta diagnosi differenziale per capire esattamente da dove il dolore viene e trovare il sistema per riuscire a farlo passare, che siano tecniche di infiltrazione anestetica, che sia gupuntura, che sia ipnosi, che sia quello di cui quel paziente in quel momento ha bisogno. Bene, professore, quanto siamo lontani dal sapere come funziona la nostra coscienza? Allora, per dare una risposta precisa dovrei sapere tutto quello che è possibile sapere sulla coscienza, compreso quello che non sappiamo, a quel punto mi sarei già candidato per il premio Nobel. Rispondere senza poter sapere quello che ci manca è difficile, ma certamente abbiamo molte buone conoscenze oggi, sia di tipo neurofisiologico e neuroanatomico, sia di tipo psicologico, però ogni conoscenza che si ha, in ogni momento storico c'è una gran parte di cose che noi ignoriamo. Alcune di queste dipendono dal nostro paradigma culturale. Per esempio, la stessa storia dell'ipnosi ci fa vedere come sia stata vista per due secoli in un modo esattamente contrario a quello che in realtà è e in un modo pregiudiziale che ancora adesso viene percepito come tale. E quindi il problema è, uno, le conoscenze che abbiamo, due, come acquisirle, terzo, il nostro paradigma culturale che a priori ci fa scartare cose che a volte sono invece rilevanti. Un'ultima domanda che esula un po' dal congresso. Come ci si prepara? Come si diventa medico in grado di attuare un'ipnosi in un paziente? Allora, non è difficile da imparare. Non è difficile. Noi abbiamo una scuola a Torino, che è il Centro Italiano di Ipnosi Clinico Sperimentale, che ha un corso residenziale di ipnosi che dura un anno con tutti i suoi crediti regolari, eccetera, e che dal diploma a fine corso io stesso ai miei tempi mi sono formato a quel corso e dopo uno continua, studia, segue i congressi delle società scientifiche dedicate e si va avanti. Ma non è una cosa così esoterica, esotica, che sia così difficile da imparare. L'importante è prendere conoscenza, coscienza, che è una tecnica terapeutica validata, utile, con cui si possono fare molte cose e quello che è straordinario a costo zero, perché non occorrono strumenti, non occorrono farmaci, non ci sono effetti collaterali rilevanti, è sempre disponibile e può essere utilissima nel paziente in qualsiasi momento, dal dolore cronico all'emergenza, perché è tutto quello che con il nostro comportamento noi possiamo fare per aiutare il paziente a sentirsi al meglio, a essere più sicuro, a essere più stabile e avere una migliore stabilità, sia psicologica, sia proprio neurovegetativa, fisica. Grazie infinite, professore. Grazie a tutti.